A proposito 10 Renato Robi, Roberto Biagini, problemi per Rouen De Greppi che resta lontanissima. Virtualmente fuori corsa, la macchina stacca, si avvantaggiano Rock Hard e Rimede, Rimede va su Rock Hard e ottiene strada all'esterno, si avvia veloce anche Rashid Guasimo in corda, c'è Rex Laser in terza posizione, sbaglia Rock Hard affrontando la piegata e intanto Rimede in vantaggio Rashid di rincalzo, poi Rex Laser davanti a Rens De Greppi. Il passaggio di fronte alle tribune Rimede in vantaggio, vediamo ora il completamento dei primi 600 metri, Rashid di rincalzo, poi Rex Laser a largo di sale Rupi con la jet, ne prende la scia Rens De Greppi in anticipo su Renato Robi all'interno del quale si insinua Rakim Rivalco e si formano così tre coppie, al seguito del battistrada Rimede 47,7 sul metronometro per i primi 600 metri e poi gli 800 in 1,4 sul piede dell'1,20. Rimede in vantaggio Rashid di rincalzo, Rupicola a largo nella scia di Rupicola a Rens De Greppi in corda Rex Laser, il primo chilometro di Rimede è passato sul piede dell'1,20, tondo, tondo, a largo Rupicola in corda Rashid, a largo Rens De Greppi, poi Rex Laser, Renato Robi all'esterno, quindi Rakim Rivalco. La retta opposta di Rimede in 15,2 sul metronometro, Rimede in vantaggio, Rashid e Rupicola in coppia alle sue spalle, poi Rex e Rens a 2,50 alla conclusione, 3 di vantaggio per Rimede su Rashid che ha rimontato completamente Rupicola a getta, la retta di arrivo, Rimede al comando, Rashid che insegue a largo, scatta Rens, di dentro si butta Rex Laser, Rimede in vantaggio, chiude bene Rex Laser, ma Rimede controlla senza problemi. Rex Laser è secondo, Rens De Greppi al terzo, quarto Rashid Guasimo. Quindi la vittoria da favorita, anzi, per la Saura Rimede, Barbara Rensulli in salchi, Barbara Rensulli al training, i colori della scuderia Cavalier King, la quota al totalizzatore 1,85, il tempo al chilometro, Grazie. 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 Grazie.